Un cristiano non può seguire Gesù e la mondanità, non può avere due cose, il cielo e la terra. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, ha commentato il dialogo tra Pietro e Gesù proposto dal Vangelo di Marco, che segue l'incontro col giovane ricco. Pietro chiede a Gesù cosa avrebbero avuto in cambio i discepoli nel seguirlo. E il Maestro spiega che seguirlo dal punto di vista umano non è un buon affare, è una strada di spogliamento. E se il Signore ti dà la possibilità di essere il primo, tu devi comportarti come l'ultimo, cioè nel servizio. È brutto vedere un cristiano, sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che vuole le due cose. Seguire Gesù e i beni. Seguire Gesù è la mondanità. E questo è un controtestimonianza. E allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso la celebrazione dell'Eucaristia. Pensando alla domanda di Pietro. Abbiamo lasciato tutto. Come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù. Il prezzo che Lui ci darà è l'assomiglianza a Lui. Questo sarà lo stipendio. Grande stipendio. Assomigliarci a Gesù. Alliamo. Assomigliarci a Gesù. Prem.